Allora abbiamo ricevuto questa chiamata di Beatrice che ci ha chiesto se volevamo venire a raccogliere le olive ma in cambio dovevamo cucinare qualcosa. Per tutto il menù abbiamo usato l'olio di Francesco. Abbiamo usato l'olio di questo qui che vedete qui intorno a noi. Sicuramente è la prima volta che raccogliamo le olive quindi vediamo da dove viene quello che usiamo poi di pochi giorni. Noi usiamo sempre olio extra pergine di oliva quindi per noi è veramente interessante vedere anche la differenza tra i vari tipi di alberi, i tipi di olive eccetera e ieri nel menù abbiamo usato due diversi tipi di olio quindi per le cose diciamo crude abbiamo usato un tipo e per poi fare la genovesina abbiamo usato un altro. Devo dire è stata appunto la prima volta che friggiamo la trippa con l'olio d'oliva ed ha aggiunto questo flavor così mediterraneo al piatto che ci stava veramente bene. Sì abbiamo fatto una tipica ricetta del diciamo centro sud, sud Italia, campana, una ricetta che viene fatta con vari tipi di tagli di carne e noi l'abbiamo fatta un po' più diciamo romana tra virgolette utilizzando il diaframma che è uno dei tagli utilizzati anche insomma da molti anni a Roma una sorta di bistecca di poveri veniva chiamata di anni fa. Qui ci troviamo veramente bene e venire a cucinare dentro questo contesto è bellissimo e siamo arrivati con un menù ma se fossi arrivata qui diciamo e avessi costruito il menù da zero forse avrei fatto anche altre cose considerando questa giornata così mi sarebbero in mente insomma un sacco di piatti è figo mi piace molto